io sono troppo orgogliona di questa cosa oggi poi adesso c'è poca luce ma la mia modella è super gnocca con questo olografico vabbè mi sto divertendo scrolla la testa come un cane bagnato ferma ma chi c'è sotto questi meravigliosi capelli chi c'è adesso glieli sposto io glieli sposto io sono in diretta su facebook bellosi se fai sempre le solite due parti da pesci vendola mare massacina non ridete perché la bellosi fa sempre queste uscite sono in diretta come faccio a cancellare c'è gente che sta guardando si sta pisciando addosso dal ridere ovviamente come facciamo noi com'è nel nostro stile aspetta ciao madonna che faccia sei felice sei felice 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 quindi mi pagherai molto bene ciao